Che è la A2A in Sicilia? A2A è presente in Sicilia già da diversi anni con tante cose, noi abbiamo impianti di generazione elettrica, termoelettrica, fotovoltaica, eolica, ma soprattutto oggi abbiamo tanti clienti, ne avevamo già parecchi prima sul libero mercato, recentemente ci siamo aggiudicati delle aste relativamente alla liberalizzazione del mercato elettrico e raggiungeremo 260.000 clienti in Sicilia nei prossimi mesi. Quali sono i progetti della società sul territorio? Ma noi vogliamo oggi innanzitutto presentarci e contribuire a un'informazione efficace su quello che sta succedendo per la liberalizzazione. Come funzionerà il mercato elettrico dopo la liberalizzazione? Adesso ci sono ancora alcuni mesi verso questa completa liberalizzazione che scatterà dal primo di luglio. Il primo di luglio i clienti, sono circa 150.000 delle province di Palermo, di Trapani, di Caltanissette e di Agrigento, riceveranno una comunicazione che li informerà del fatto che A2A sarà il loro nuovo fornitore, con delle tariffe definite dalla RERA per i prossimi 33 mesi. È chiaro che in tutto questo periodo questi clienti avranno la possibilità comunque di scegliere altri prodotti e servizi. Grazie. 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 Grazie.